Buongiorno a tutti, oggi parliamo con la professoressa Elisabetta Nigris che è docente di progettazione didattica e valutazione presso l'Università Bicocca di Milano. La professoressa Nigris durante il precedente anno scolastico ha coordinato il gruppo di lavoro che si è occupato di riscrivere le regole sulla valutazione nella scuola primaria, quindi è lei insieme a tutte le persone che con lei hanno collaborato una delle artefici del nuovo modello di valutazione formativa per la scuola primaria, ecco e con lei proprio parliamo di questo. Ecco allora senta professoressa vogliamo fare un piccolo bilancio su che cosa è accaduto durante l'anno scolastico 2020-2021, cioè come è andata l'operazione soprattutto come sono andate le attività di formazione che voi avete svolto, avete coinvolto centinaia, migliaia anzi di insegnanti in tutta Italia, è stata un'operazione molto importante, come è andata? Allora, io penso molto bene anche se non possiamo negare che questa riforma è arrivata un po' all'improvviso durante il primo quadrimestre, anzi alla fine dell'anno in dicembre e quindi ha preso effettivamente la sprovvista agli insegnanti, quindi c'è stato, se lei mi chiede come è andata, c'è stato un primo momento di grande disorientamento degli insegnanti, proprio perché questo era prevedibile e non era legato al lavoro della commissione a cui è stato chiesto di lavorare in due mesi, noi due mesi ci abbiamo messo, quanto ai tempi legislativi e al fatto che si è deciso di introdurre subito questa riforma, scelta che io devo dire adesso condivido perché in Italia se no non si inizia mai e se una cosa viene sospesa non si sa mai doveva finire, quindi si è iniziato un po' in corsa però si è iniziato prevedendo che ci sarebbe stato questo disorientamento visto anche la radicalità del cambiamento che si credeva, io ho chiesto al ministero che la presentazione delle linee guida e la formazione che si sarebbe prevista a breve fosse possibile dirigerla a tutti gli insegnanti, questo è qualcosa che viene fatto raramente, in genere appunto si presenta un gruppo ristretto che poi riporta ad altri, invece questa scelta credo che sia stata importantissima, tanto è vero che noi abbiamo avuto dei numeri impensabili di persone presenti sia la presentazione che ai primi webinar plenari, questo ci ha permesso di far arrivare la nostra voce nella scuola e dal riscontro che abbiamo avuto dagli insegnanti questo è stato molto apprezzato, cioè che tutti potessero ascoltare la commissione che aveva redatto il documento e che ci fosse anche un linguaggio e un modo di proporla che come ci è stato detto era vicino agli insegnanti, non era qualcosa di artificioso o di accademico e abbiamo cercato in tutti i webinar di usare tantissimi esempi e di fare riferimento a quella che sappiamo essere l'esperienza delle scuole. Ecco voi in realtà avete fatto davvero un'operazione notevole da questo punto di vista, io inizialmente ho detto migliaia di insegnanti ma diciamo che probabilmente siamo arrivati a decine di migliaia di insegnanti, quindi è stata veramente un'operazione importante, diciamo che nella scuola forse un'operazione di formazione di questo genere non la si ricordava davvero da tanto tempo. Voi avete fatto anche numerosi webinar per incontrare tutti gli insegnanti, com'è andata questa fase? C'è stata una prima fase che noi abbiamo denominato informativa in cui abbiamo proposto quattro webinar sui punti cardine, quindi sulla valutazione descrittiva, sulla documentazione, sulle prove di verifica, sulla comunicazione ai genitori, sulla valutazione e pay e questo appunto come dicevo è stata apprezzata perché è stata rivolta a tutti, molto legata all'esperienza diretta ed è possibile ancora consultarla sul sito del MIUR. La seconda parte della formazione e qua davvero siamo andati nelle decine di migliaia di docenti, poi abbiamo fatto una formazione invece mirata più in profondità alle figure di riferimento perché non era possibile fare un approfondimento con tutti gli insegnanti, quindi per ogni regione noi abbiamo, ci siamo rivolti a due, tre insegnanti per ogni istituto comprensivo facendo una formazione che analizzasse casi, partisse dalla teoria ma per passare all'esperienza, chiedesse agli insegnanti di confrontarsi all'interno della scuola e di documentare quello che avveniva nelle scuole per poter condurre il secondo incontro su quello che effettivamente le scuole poi facevano. Senta professoressa c'è un punto che secondo me varrebbe la pena di approfondire, oggi nella scuola primaria siamo in una situazione un po' curiosa perché poi arrivati alla fine del ciclo, alla fine dei cinque anni, gli insegnanti devono fare anche la certificazione delle competenze. Allora secondo lei questo problema, cioè quindi mettere insieme valutazione formativa con valutazione e certificazione delle competenze, non varrebbe la pena magari di approfondirlo meglio a partire da questo anno e quindi iniziare un po' a sciogliere questo nodo perché da quello che io so agli insegnanti questo ha creato alle volte anche qualche difficoltà. Lei cosa ne pensa? Sicuramente io sono d'accordo perché gli insegnanti ci hanno portato questa difficoltà, come le dicevo la formazione che è stata fatta che ha raggiunto 8.000 insegnanti a costo zero per lo Stato è stata basata su le domande e le difficoltà che loro ci portavano. Una era questa perché io credo che ci siano due fraintendimenti, uno che parlare di obiettivi d'apprendimento e parlare di competenze siano due cose diverse e invece il tema è come scelgo gli obiettivi di apprendimento per raggiungere le competenze e questo richiede una riflessione sulla priorità degli obiettivi che non possono essere dei micro obiettivi ma non possono neanche confondersi con le competenze. Devono essere dei gradini che portano le competenze. Questo sicuramente richiede una formazione molto più capillare in tutte le scuole e direi non quest'anno, a partire da quest'anno perché credo che la valutazione per competenze non fosse stata così ben compresa prima di questa riforma. Quindi diciamo che se vogliamo dire una battuta prendiamo due piccioni con una fava, se invece vogliamo essere realistici è un bel cammino insomma, è un cammino arduo ancora da fare. Senta, le faccio una domanda a lei come pedagogista, ovviamente la domanda prevede anche una risposta di natura tra virgolette politica che ovviamente non compete a lei, ma lei come pedagogista che cosa pensa di questo problema? Cioè noi abbiamo nella scuola dell'obbligo una situazione per cui alla scuola elementare facciamo la valutazione formativa, poi passano due mesi, tre mesi, si entra nella secondaria di primo grado e nella secondaria di primo grado invece si usa di nuovo il voto. Allora forse c'è qualcosa che non va bene su questo, lei cosa ne pensa? Ripeto poi lo sappiamo benissimo che questo è un tema di carattere politico nel senso che richiede una decisione del legislatore. Ecco ma lei quale suggerimento come pedagogista quale suggerimento darebbe al legislatore? Allora parto dalla riflessione pedagogica e sicuramente pedagogicamente è una contraddizione in un ciclo che è unico, quello dell'obbligo, in un istituto comprensivo in cui noi abbiamo sia infanzia in alcuni casi ma sempre primaria e secondaria di primo grado questo crea una frattura. Dall'altra parte io credo che questa frattura ci fosse anche prima tant'è vero che la ricerca ci dice che gli abbandoni, la causa degli abbandoni si può far risalire in molti casi al passaggio fra la primaria e secondaria di primo grado e al tipo di scuola in cui si frequenta la secondaria di primo grado. Quindi diciamo che da pedagogista penso che andrebbe pensato un'omogenizzazione del sistema di valutazione. Poi io sono anche però una persona molto pratica quindi più che dare un consiglio al legislatore che non mi spetta e non saprei neanche darlo devo dire. Io penso che aver iniziato dalla primaria vuol dire mettere un seme che fa crescere un albero. Come pedagogista chiaramente io preferirei che la riforma avesse investito sia la scuola primaria che la secondaria di primo grado. Nello stesso tempo questa situazione ci dà la possibilità di introdurre più gradualmente non tanto la riforma ma questo modello di valutazione, questa idea di valutazione di scuola alla secondaria di primo grado senza che sia introdotta nel momento stesso in cui c'è l'obbligo di applicarla perché questo per gli insegnanti è molto difficile. Negli altri paesi si inizia così, prima si fa formazione e poi si fa la riforma. Quindi forse ho torto collo questa volta potremmo provare a fare questo sempre che il legislatore decida poi di procedere in questa direzione. Bene, quindi diciamo che da tutto questo emerge comunque un dato importante che al di là delle norme al di là delle leggi, delle circolari, dei decreti è sempre molto importante nella scuola anche avere un occhio per la formazione degli insegnanti e per la pratica didattica quotidiana, è così? Esattamente, esattamente perché cambiare il modello di valutazione significa ripensare al modello di didattica. Non a caso il mio corso è progettazione e valutazione didattica, sono inscindibili, sono inscindibili e devo dire che dopo questa esperienza di un anno che per me è stata veramente di formazione per me e per tutta la commissione, anche perché anche noi ci dovevamo cimentare in qualcosa che non c'era, ha voluto davvero ripensare anche il mio corso. Io penso che sia necessario partire quasi dalla valutazione per poi pensare al tipo di progettazione. Senta, adesso la commissione è sciolta o continua a lavorare? Allora, la commissione scadrebbe il 30 settembre, però abbiamo appena saputo che sarà rinnovata anche l'anno prossimo, proprio per contenere il percorso di formazione con due focus. Uno, i dirigenti scolastici, perché appunto il lavoro in tutte le regioni d'Italia l'anno scorso per gli assegnanti è stato così impegnativo che non siamo riusciti a fare anche la parte per i dirigenti, con un occhio particolare ai neoassunti. Il secondo focus è la formazione dei formatori, noi siamo in otto, non possiamo formare tutta l'Italia, non è nemmeno giusto, tra l'altro moltissimi bravissimi colleghi, associazioni professionali, università si sono mossi in questa direzione, però è importante che ci sia un numero abbastanza grande di formatori che condivide proprio lo stesso pensiero, lo stesso approccio avendo lavorato con la commissione che è un po' l'erogatrice di queste linee di vita e quindi siamo molto contenti che il ministero abbia pensato a queste due nuove traiettorie. Bene, allora noi la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro a lei e ovviamente a tutta la commissione e ci sentiremo più avanti per capire un po' come vanno i lavori della commissione per il 2021-2022. Grazie ancora professoressa. Grazie ancora a lei e a tutta la commissione, un mio ringraziamento particolare. Grazie. Arrivederci. Grazie.